Eccoci qui, ci troviamo in occasione della presentazione di un film bellissimo, il ragazzo della Giudecca, in questo caso il cantante melodico Carmelo Zappula e qui ci troviamo con uno degli attori che dà una grande impronta a questo film, Tony Sperandeo. Ciao Tony! Salve, salve, salve a voi! Poi abbiamo qui anche un'altra attrice, Barbara Bacci, che appunto è la mia compagna, ci siamo conosciuti in questo film e quindi sono molto legato a questo film. Ecco, perciò è stato diciamo, oltre a dare un'impronta molto forte in questo film, c'è stato anche... Ho dato anche un'impronta molto di cuore a questo, a lei. E questa è una bellissima notizia, cosa ci dici tu di questa, diciamo, di questa love story che è nata grazie a questo film? Sì, beh, questa è una cosa molto importante, ci siamo innamorati su questo film, io ringrazio di essere stata scelta nel cast, è uno dei miei primi film in Italia, visto che io ho sempre vissuto in America, adesso sono tornata da poco, anche se sono italiana, è nata qui, è stata, come ho detto, una bella esperienza, a lavorare con questo regista, in questo film e soprattutto conoscere Tony, ma questa è la vita poi personale. Certo, però come dire, utile, addilettevole, non fa mai male. Certo, 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 è una bellissima esperienza, ringrazio tutti. Ecco, perciò noi invitiamo tutti quanti a vedere questo bellissimo film di vita vissuta e ovviamente diamo un messaggio di speranza, Tony. Mi chiamo Sperandeo, ho più il messaggio di questo, bisogna sperare e comportarsi bene. Ho detto tutto e ho detto troppo, buon primo maggio. Grazie, grazie, non è primo maggio. Buon Natale, buona Pasqua, buon tutto, ciao per il momento è tutto.